Ciao a tutti, buongiorno e cari ragazzi, adesso sto per tornare a correre e adesso sto cercando di rimettermi in forma per la maratona del prossimo anno a Milano. Ora vi lancio una domanda che mi dovrete lasciare sui commenti. Il quesito è, devo o non devo partecipare alla 100 km del passatore? Lasciatemi i commenti qui sotto e fatemi sapere. Ciao a tutti!